Siamo in Lombardia, oltre Popavese, una delle zone evitate più interessanti d'Italia, con il direttore del club del buttafoco storico Armando Colombi. Cosa raccontate qui a Vinitaly? Presentiamo il nuovo buttafoco storico del club dei produttori, quindi l'annata 2018, firmata da Jean-François Coccard. È un vino che nasce dall'assemblaggio dei vini nati da tutte le vigne storico. Una bottiglia che vuole rappresentare tutto il territorio e quindi la presentiamo qui per poi lanciarla un po' in tutta Europa e nel mondo per far conoscere la nostra piccola denominazione. Quanti produttori sono nel club? Oggi i soci del buttafoco storico sono 17 aziende per 20 vigne. Le vigne sono composte prevalentemente da uve croatina al 50%, barbera, uva rara e ughetta di canneto. Un rosso che si abbina ai piatti della tradizione e che cosa? Ai piatti della tradizione non solo, quindi classica cucina del nord Italia, ma in realtà sono vini versatili, moderni, che si abbinano un po' a tutto in base al terroir dove sono nati. Quindi ogni vigna poi si abbina in varie maniere. Sicuramente la carne la fa da padrone. Qui vedo un bel afflusso, sta andando bene? Sta andando benissimo, abbiamo veramente tantissimi curiosi, gente nuova che ha sentito parlare di buttafuoco e si approccia appunto al conoscere il buttafuoco storico magari per la prima volta qui da noi.